65esima edizione del Carnevale di Castrovillari, siamo con Rosario Rummolo che ha interpretato il Re Carnevale. Cosa hai provato? Quest'anno ho una sensazione particolare perché è stato l'anno della rinascita, l'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione molto ridotta con le regole Covid, limitazioni, una certa freddezza. Quest'anno, devo dire la verità, ho sentito un gran calore per le persone che stavano vicino a noi, ci hanno trasmesso veramente un grande grande calore e questo non fa altro che accrescere le nostre emozioni perché lavorare dietro le quinte del Carnevale significa avere, ricevere le emozioni delle persone, rielaborarle e trasmetterle amplificate. Questa è una delle edizioni che resteranno nella storia, la 65esima edizione, quella della rinascita. Noi naturalmente vi invitiamo a venire alla 66esima edizione perché come da prassi noi subito dopo iniziamo a lavorare e ripreparare tutto con la Prologo per la nuova edizione sempre meglio, sempre più bella. Ci rivediamo al Carnevale di Castrovillari.